La TITMUS La TITMUS La TITMUS La TITMUS Ma Paolo e Fabio avete fatto pace quindi? Io sì, non ho nessun problema Ma possiamo concludere con un abbraccio affiduoso Dai, dai, abbraccio Un siamo noi, un siamo noi così La TITMUS La TITMUS Imagine Dragons che hanno scelto Elisa per accompagnare questa canzone che si chiama Birds su Radio Capital Ovviamente questo è il nostro Capital 2.27 Tutte le novità di Radio Capital le trovate ovviamente sul nostro sito internet che è Capital.it Con la nebbia i lampioni disegnano liane di luce Con noi e a te il ringraziamento va a tutta la band A presto e insomma buona Noi andiamo come promesso a ripescare un brano da Fluttern Noi andiamo come promesso a ripescare un brano da Fluttern Le due staccate adesso Bene, bene, bene Sono le due fette d'anguria Molto bene Bella questa Guarda Anzi senti che ti faccio fare Apro la porta del Patete Apro la porta del Patete Se c'è qualche italiano Il buon Chris Martin Il non è da Cantare di Piso Un po' il Piso Con Abissi Il paradiso in cui vi trovate ora con la versione delle due Il paradiso Tito Vade sezza tipo E' un nuovo episodio dopo I grande serie Tito Cardinal Che ho vado e sezzati Poi vedete il nuovo episodio Documentario Ne serie Tito Di Naustepina C'è Tito Direttore d'orchestra Compositorio Scenista Suonatore di Liuto e di Ud Nato a Sofia nel 1957 Quello Mato in causa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti